Ciao a tutti e benvenuti su Radio Londra, il canale di informazioni e curiosità su Londra. Io sono Alex, il vostro inviato dalla capitale britannica, e in questo episodio voglio parlarvi delle case di VIP a Londra, dove che vivono le celebrità quando si spengono i riflettori. Prima però vi invito a iscrivervi al canale di Radio Londra e di cliccare sulla campanella di notifica per essere sempre aggiornati sulle novità e gli aneddoti riguardanti questa meravigliosa città. Ma come dicevamo, dove che vivono le celebrità a Londra? Dove sono le stelle? Quali sono i loro indirizzi? Ovviamente persone famose sono sparse un po' per tutta Londra, ma soprattutto poi per il centro, e ci sono due zone ben identificabili a Londra che sono quelle di Holland Park e Primrose Hill. Ve le ho messe qui in rosso, in due cerchi rossi qui sulla mappa, come vedete a dovest c'è Holland Park e poi un po' più a nord c'è Primrose Hill. Parlando prima di Holland Park c'era a dire che questo è un quartiere ricchissimo, quello di Holland Park, parliamo di Kensington e tutta la zona, che è una zona tra l'altro enorme, davvero una ricchezza ampia ed è una zona molto ricca, sfarzosa. Il parco è davvero famoso non solo per la presenza del suo giardino giapponese, davvero carino con queste decorazioni nipponiche, ma soprattutto per la presenza di loro, di questi animali bellissimi, stupendi, che sono i pavoni. Eccole le vere star, le vere celebrità di Londra. Possiamo anche finire l'episodio qui, ormai abbiamo visto dove vivono i VIP, basta. Ma in realtà sto scherzando e queste sono comunque celebrità, ma noi vogliamo parlare appunto di quell'altra, no? Quelle che conosciamo noi. E attorno a Holland Park ce ne sono tantissime, pensate a Holland Park, vivono David Beckham e la moglie Victoria, Elton John, Robbie Williams. Se voi pensate sulla strada di Holland Park, quella dove vivono David Beckham e Victoria Beckham, è praticamente chiamata The Millionaire Road, perché ogni persona che vive su questa strada è praticamente un milionario. Ed eccola qui, la prima casa che voglio mostrarvi è quella di David Beckham e di Victoria Beckham, quindi l'ex calciatore, ex Spice Girl, questa coppia di rotocacchi che vive in questa casa sfarzosa, lussosissima, con stucco bianco, stile classico, con un pizzico di vittoriano. Onestamente non rispecchia tanto i migusti, in quanto è innanzitutto uno stile troppo classico. E poi è uguale a tante altre case che sono su quella strada. Voglio dire, non la butterei, cioè non è che mi dispiaccia per David e Vittoria, non se la passano male, però insomma se la possono tenere. E questo è il 23 di Holland Park, invece se poi ci spostiamo verso il 4 di Queensdale Place, al 4 di Queensdale Place vediamo la casa di Elton John. Adesso voi mi dite, guardando la fotografia, cioè questa è la casa di Elton John, cioè una delle più ricche star del mondo della musica vive qui. Ebbene sì, è una casa che vi sembra umile all'apparenza ma che in realtà poi nasconde tanto l'uso, addirittura pare ci sia uno studio di registrazione. E poi al di là, a parte degli scherzi, è una casa che è molto cara a Elton John perché racchiude tantissimi i suoi ricordi. Elton John ci ha passato tanti anni importanti della sua vita. Ci spostiamo invece camminando, camminando, al numero di 29 di Malbury Road. E qui vediamo la Tower House, che è una casa stupenda, un castello. Questo già più vibra con me, che ne dite? Sembra davvero molto molto bello, chissà come deve essere all'interno. Questa è la casa di Jimmy Page, casa che pare che Jimmy Page abbia sgraffignato a David Bovi durante un'asta. Pare che sia riuscito Jimmy Page a vincere all'asta e che David Bovi sia divasto molto deluso e molto arrabbiato, tra l'altro, con Jimmy Page. Camminando poi sempre su Malbury Road, a un paio di numeri di distanza, al 31 c'è la Hoodland House, dove vive Robbie Williams, l'ex cantante dei Take That. E che dire, questa, ma diciamoci la vita, anche la casa di Jimmy Page, delle Zeppelin, onestamente sono un po' inquietanti. La stessa Malbury Road ha un'energia molto molto strana. Io non so se voi ci vorreste vivere. Comunque, Jimmy Page e Robbie Williams credo che siano felici anche loro qui. Spostandoci un po' più in là, sempre nella zona di Holland Park, poi arriviamo camminando, camminando al set di Cavendish Avenue, dove vive Sir Paul McCartney. Sir Paul McCartney che, come Freddie Mercury, praticamente è barricato dentro la sua casa. Vedete qui soltanto il muro di cinta esterno. Però c'è da dire che comunque anche questa è una casa grandissima. Parliamo comunque di uno dei più ricchi musicisti della storia. E spostandoci poi da Holland Park, dicevamo Freddie Mercury, parlavamo di muro di cinta, si arriva poi a Kensington, nel pino di Kensington. Qui siamo un po' più lontani da Holland Park. Arriviamo al 28 di Logan Place. E' qui dove viveva il compianto Freddie Mercury, dove spesso i suoi fan vanno e lasciano messaggi sul muro di cinta per rendere omaggio a loro. Veniamino. Scendendo poi sempre più giù, verso il fiume, si arriva poi nel quartiere di Chelsea, che è quasi una continuazione del quartiere di Kensington, almeno della ricchezza di Kensington. Ma architettonicamente è un po' differente, perché ha piccole casette un po' più colorate, ma anche poi questi grandi palazzi, queste grandi case di mattoni arancione scuro, tipiche di Chelsea, come il 48 di Jane Walk, la casa di Mick Jagger e Marion Faithfull. E' una casa anche questa grandissima, però appunto sembra più quasi un palazzo, anche perché queste case non sono semi-detached, staccate dalle altre, ma sono proprio una attaccata all'altra, con queste schiere proprio di palazzi, però molto molto riconoscibili. Quando vedete foto di palazzi di genere sapete che Chelsea, quartiere molto molto bello, tra l'altro da visitare, ve lo consiglio, che si trova poi sul fiume a sud di Kensington, in l'ovest di Lund, a ovest del centro. Spostandoci invece poi verso il centro, quindi verso il caos, arriviamo a Marble Arch e qui poi, dietro Marble Arch, su Great Cumberland Place, al numero 51, arriviamo a casa di Madonna. Vedete, siamo qui fuori la porta di casa di Madonna, e mi raccomando, io vi sto dando questi indirizzi, però ora non importunate queste star, per favore, non le pedinate, soprattutto Madonna, che è molto irascibile, si arrabbia molto al riguardo, lei ci tiene molto alla sua prada, si ci tiene così tanto che però si è presa una casa proprio dietro a Marble Arch e al caos, io non lo so, e la casa può sembrare come lei dal di fuori, ma in realtà non lo è, e inoltre dal di fuori questo è il tipico stile giorgiano, stile che è molto spoglio all'esterno, perché vuole salvaguardare l'ambiente circostante, risparmiare spazio, come vedete c'è strada e c'è quasi subito la porta d'ingresso, però è una casa che ovviamente è grandissima e si sviluppa molto sul retro, dove c'è praticamente un giardino enorme, quindi è molto molto privata come concezione. Spostiamoci poi dalla casa di Madonna e arriviamo poi al nord, nella zona che vi dicevo è quella di Primrose Hill, qui ci vivono anche tantissime star, ed è una zona molto molto carina, molto vibrante, soprattutto perché si trova al nord di Regent's Park, in una zona molto tranquilla, molto posh, molto appartata, però praticamente dietro Camden, la zona rocchettara di Londra. E qui ci vivono tra le varie star, Judd Lowe, ci ha vissuto Kate Winslet, Matt Bellamy, Liam Gallagher, Noel Gallagher, e qui ad esempio vedete la casa di Tim Burton e Helena Bonham Cart, loro vivono al 97 di Havestock Hill, a fianco proprio al pub di Sir Richard Steel, che è un pub famoso di Londra, quindi avete pub e avete l'ingresso della casa loro, in realtà dovete camminare un po' dopo l'ingresso per arrivare poi alla casa, che in realtà poi sono due case interconnesse, in una ci vive Tim Burton e in una Helena Bonham Cart. Come sapete loro sono separati in casa, nel loro caso anzi sono separati in due case, visto che c'erano più soldi, ce ne hanno due. Spostandoci invece dalla casa di Tim Burton e Leon Bonham Cart andiamo poi verso Camden e nel centro quasi di Camden, poi c'è il numero 30 di Camden Square, dove viveva Amy Winehouse. E tra l'altro è una casa con uno stile molto asciutto, in una piazza tranquilla, soprattutto considerando che si tratta di Camden, quartiere pazzo, giovane e rocchettaro per eccellenza, ma questa casa è a un 200 metri dalla stazione di Camden, quindi una zona più tranquilla e signorile. Spostiamoci invece a sud per gli ultimi due indirizzi di cui voglio parlare. Il primo è il 40 di Stansfield Road. Qui nacque David Bowie, la grande rock star famosa in tutto il mondo, tra l'altro il mio cantante preferito. Ovviamente io sono anche passato per il 40 di Stansfield Road, così come ho anche visitato più volte poi il murales, quello di fronte alla stazione di Brixton, dove i fans, le persone da tutto il mondo hanno reso omaggio poi al cantante, soprattutto dopo la sua scomparsa. E l'ultimo indirizzo del quale voglio parlarvi, il 287 di Camden Road invece, dove visse Charlie Chaplin, questo grande regista che ci regalò capolavori come Lucid della città e Tempi Moderni. Dietro quella porta rossa, Charlie Chaplin passò gli ultimi anni della sua vita e davanti a questa casa passo quasi ogni giorno per andare al lavoro e mi fa molto piacere ovviamente. E con questo è tutto ragazzi, spero vi sia piaciuto questo viaggio nel mondo delle star di Londra, ovviamente non ho potuto nominarvi tutti indirizzi perché ci vorrebbero ore e poi ho tralasciato volutamente personaggi appartenenti a forme d'arte o di spettacolo differenti, ad esempio personaggi appartenenti alla letteratura, pensate a Virginia Wolfe che visse a Bloomsbury, ma sarebbe appunto impossibile condensare il tutto in un unico episodio. Quindi per adesso è tutto, vi invito di nuovo a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella in modo da restare poi aggiornati ogni volta che un nuovo episodio di Radio Londra viene pubblicato su YouTube. Per adesso è tutto, io passo e chiudo da Londra e vi mando un grandissimo abbraccio. Ciao!